Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra l'allacciamento A1 di Firenze Imprunita e San Casciano. Sulla Siena-Bettolle fino al 26 settembre per lavori chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia per lavori scambio di carreggiata tra Monte Pescali e Gavorrano chiusi gli svincoli di Braccagni e Monte Pescali in direzione Livorno. Puoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!